Salve a tutti e benvenuti nel mondo delle mantidi. Oggi vi presentiamo una mantide molto conosciuta e una tra le specie più diffuse in allevamento. Si tratta della Spodromantis viridis. È un insetto di grandi dimensioni con femmine lunghe anche più di 8 centimetri e maschi lunghi generalmente 6 o 7 centimetri. Quest'ultimo oltre alle dimensioni ridotte si riconosce per avere antenne molto lunghe e una corporatura più esile della femmina, che ha invece la testa, il pronoto e le zampe raptatorie massicce e robuste. Contrariamente a quanto indica il nome questa mantide non è solo verde, ma nelle zone più aride del suo habitat di solito è marrone. In tutti i casi è presente una macchia bianca molto visibile su ogni tegnina. Sono insetti molto voraci e aggressivi che riescono a catturare insetti delle loro stesse dimensioni e se disturbate oltre a eseguire la parata di minaccia mordono e colpiscono con le zampe raptatorie. Le neanidi di Spodromantis viridis hanno l'abitudine di tenere l'addome all'insù, sia quando sono a riposo sia quando camminano. Questa mantide è diffusa in gran parte dell'Africa settentrionale e centrale, e negli ultimi anni sono state documentate popolazioni stabili anche in Spagna meridionale, dove ha un ciclo vitale diverso rispetto alle Spodromantis viridis africane. In Africa gli adulti sono presenti quasi in ogni mese dell'anno, mentre in Spagna il ciclo è simile a quello di mantis religiosa con adulti che muoiono con l'arrivo dell'inverno. In Italia ci sono state varie segnalazioni sporadiche di questa specie, ma per ora l'unica verificata è quella di un maschio di Spodromantis viridis scatturato sull'isola di Spargi in Sardegna. Trovate più informazioni in un video che abbiamo realizzato per approfondire su questo tema, che trovate nelle schede in alto a destra o in descrizione. La Spodromantis viridis ha 5 sottospecie conosciute. Spodromantis viridis viridis, Spodromantis viridis barbara, Spodromantis viridis meridionalis, Spodromantis viridis inornata e Spodromantis viridis simplex. Questa mantide è molto diffusa tra gli allevatori che la apprezzano per la voracità e la facilità di riproduzione. Con questo è tutto. Noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti.